Per sbaglio ho premuto il pulsante che ferma la registrazione. Vuoi giocare con questo deck? Sì. Sì, ho vinto. Ah. Sì, che a tutti si guardano a Dragon Wave c'è scritto. Perché non l'ho letto bene. Sì, che a tutti si guardano a Dragon Wave c'è scritto. Sì, che a tutti si guardano a Dragon Wave c'è scritto. Sì, che a tutti si guardano a Dragon Wave c'è scritto. Sì, che a tutti si guardano a Dragon Wave c'è scritto. Sì, che a tutti. Sì, che a tutti si guardano a Dragon Wave c'è scritto. Anche te non puoi giocare Cioè non puoi entrare A questo punto visto che il resto le battaglie le farò dopo Da aver finito il video Queste battaglie che riguardano la demo le farò vedere Ma se perderò ovviamente la rifarò Basta Dai per una volta Sì La musica è cambiata Ascoltate Si è cambiata Ah ecco perché non potevo usarla Non c'è nessuna carta in campo Recupera anche vita Perciò attacco A questo punto Adesso a quanto pare Ma questa è solo una cosa che io penso Non è che magari Se io sono il primo Ho solo due gemme Quindi posso fare Wolverine solo per due volte Quando ce l'ho